Per il nostro approfondimento oggi ospitiamo il presidente della provincia Luca Della Bitta, benvenuto presidente. Buongiorno a tutti. Siamo all'indomani del voto decisivo da parte del Consiglio Provinciale che ha approvato il bilancio 2018 dopo anche il parere favorevole espresso dall'Assemblea dei Sindaci. Che priorità avete messo in testa al bilancio? Ma intanto la situazione generale purtroppo è ancora di tanti prelievi da parte dello Stato. Siamo nell'ordine del 90% delle risorse proprie della provincia che vengono prelevate a livello nazionale. Nonostante questo il bilancio è stato predisposto, approvato tra l'altro all'unanimità con il parere dei sindaci presenti nell'Assemblea e quindi è una soddisfazione anche questa. Abbiamo scelto tre temi in particolare per quel che riguarda gli investimenti. Innanzitutto le strade. Abbiamo circa 400 chilometri di strade provinciali che hanno bisogno di manutenzione, di interventi di miglioramento e quindi questa è una priorità che abbiamo voluto dare. Certo servirebbero davvero molte più risorse ma abbiamo voluto dare un segnale in questo senso di prenderci cura il più possibile delle nostre strade provinciali. Il secondo tema sul quale siamo decisamente tra le province più all'avanguardia in termini di impegno è quello delle scuole, gli edifici scolastici, le scuole superiori di tutta la provincia, quindi da Bormio a Chiavenna passando per le altre sedi. Anche quest'anno le scuole della nostra provincia saranno oggetto di grandi investimenti, di miglioramento, di messa in sicurezza e in alcuni casi anche di realizzazione di nuove iniziative. Penso a palestre che mancavano, al rinnovo completo di laboratori per i corsi tecnici, quindi le scuole al centro ancora una volta dell'investimento della provincia. E un altro tema che è entrato negli ultimi anni è quello dei ponti. Ne abbiamo diversi, forse negli anni passati si è un po' trascurato il tema della manutenzione, abbiamo inserito una disponibilità per approfondimenti sui ponti ma anche per mettere in atto iniziative di potenziamento, consolidamento, di messa in sicurezza. La premessa a tutto questo piano di investimenti, che non è scontata perché tante province si dibattono in condizioni di difficoltà anche peggiori della nostra, è il mantenimento dei servizi. Certo, questo è un altro tema che ci contraddistingue, ci differenzia anche da altre province lombarde. Noi siamo riusciti in questi anni di grandi tagli e prelievi da parte dello Stato a mantenere di fatto tutte le competenze e i servizi dei nostri cittadini e continueremo a farlo. Lo abbiamo potuto fare in particolare grazie al fatto che possiamo beneficiare dei fondi provenienti dal demanio idrico. Certo, questi servirebbero per fare investimenti, li dobbiamo usare in una quota significativa per i servizi, ma è un servizio che diamo appunto ai cittadini, che continuiamo a garantire e ne siamo orgogliosi. Presidente, di recente con i suoi colleghi ha incontrato il nuovo Presidente della Regione, è un periodo nel quale comunque il tema dell'autonomia a vari livelli declinato è nell'agenda. Lei come vive un pochino questa fase? Che aspettative ripone per il futuro della nostra provincia? È un momento che dà grande speranza sul ruolo delle province. Il Presidente Fontana ha un percorso molto concreto di amministratore e ben conosce quanto può essere importante avere un ente di livello provinciale. Lo ha detto in maniera molto chiara nell'incontro che abbiamo avuto per la Regione e le province devono tornare a essere un ente fondamentale con le risorse e con il personale. Allora stiamo stringendo un'alleanza tra province lombarde e Regione Lombardia per lavorare sul livello regionale nel continuare a potenziare le deleghe e qui Sondrio è un modello di riferimento. Anche le altre province guardano a noi come esperienza positiva, di maggiore autonomia, che certo deve essere consolidata e perfezionata, ma è sicuramente un'esperienza molto interessante anche per le altre province. Insieme alla Regione vogliamo fare in modo che nel percorso di maggiore autonomia regionale venga inserito il tema delle province e quindi chiedere a livello nazionale di rivedere i disastri della legge del Rio, di ridare ai cittadini la voce per poter scegliere il Presidente della provincia, i consiglieri provinciali, di ridare alle province dignità, soldi, risorse, possibilità di investimenti. Si è visto che la scelta fatta negli anni scorsi ha portato veramente in alcuni territori dei disastri enormi, oggi bisogna metterci mano e su questo le province lombarde e Regione Lombardia lavoreranno insieme. Intanto ci sono le emergenze quotidiane del territorio, una su tutte il problema della franna di Gallivaggio, c'è forte disagio naturalmente nella popolazione della Valle Spluga, si avvicina la stagione turistica, i problemi della viabilità, della messa in sicurezza, domani è un'altra giornata importante. Sì, anche e soprattutto in situazioni di emergenza si vede come sia importante avere una regia provinciale, la protezione civile provinciale ha dimostrato ancora una volta di essere pronta con i suoi volontari, con le sue strutture a lavorare, a mettersi a disposizione. Abbiamo un'arma molto forte, abbiamo una grandissima collaborazione con Regione Lombardia, da sempre ce l'abbiamo, anche in questi giorni lo abbiamo dimostrato, stiamo lavorando con gli assessori, certori e foroni che ci stanno veramente accompagnando con le strutture in questo percorso. Non possiamo permetterci di mettere in gioco la stagione turistica, la stagione estiva, è una cosa che non è sostenibile e che quindi vogliamo escludere e per questo motivo assicuro che è in atto ogni impegno e sforzo possibile per trovare delle soluzioni concrete. Non è facile, ma è importante mantenere la calma e metterci ogni giorno passione, capacità e competenze. Dobbiamo dare delle risposte concrete ai cittadini, alle imprese e ai turisti e quindi questo è l'obiettivo che ogni giorno cerchiamo di raggiungere.